ciao amici sono qui nella mia casetta di rapallo con i miei amici più fedeli per festeggiare i miei mamma mia 76 anni porca miseria intanto non me li sento a vedere così ho cercato di fare un video per tutti voi perché siete un casino di gente io non pensavo di avere tanti amici così siete di tanti auguri delle parole dolcissime eccetera quindi ho detto non posso rispondere a 200 300 amici faccio un video che io non faccio mai faccio un video per ringraziarvi del vostro affetto della vostra vera amicizia e quindi così almeno questo video vale per tutti vale per tutti c'è Olena che lavora con noi che sta riprendendo spero che faccia le belle riprese questa è la mia casa che ho comprato molti anni fa siamo a San Michele a un chilometro da rapallo e a due chilometri da Santa Margherita è a 7 chilometri da Portofino quindi è un posto meraviglioso dove si respira l'aria buona la carne qui amore di tempo c'è il video auguri ciao auguri no sei tu che devi dire auguri a me auguri ecco 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 e niente quindi stasera una serata normale con Giovanna Olena Magali che hanno fatto delle cose buonissime io l'ho vista in cucina e quindi niente c'è chi è il cane di mio figlio è scappato giù in cucina perché hanno lasciato la porta aperta non puoi farlo vedere sta notando no ah è fermo va bene niente per parlarvi di lavoro forse sono troppo lungo non lo so voglio dire che 7 mesi fa 8 mesi fa ho finito il mio album nuovo di 18 canzoni inedite che con la mia cariscografica abbiamo deciso di farlo uscire fuori a ottobre quindi a ottobre sentirete 18 canzoni dopo 8 anni 9 anni che non scrivevo più spero che vi piacciono che vi diano delle emozioni come le hanno date a me quando le ho scritte quindi un abbraccio grandissimo a voi vi è una bella estate vi è stata serena divertente con i vostri amici con i vostri amori eccetera e io vi ringrazio ancora siete stati meravigliosi fammi un primo piano perché voglio che mi guardino negli occhi che io che sono la parte più vera di una persona un abbraccio vi voglio veramente bene grazie grazie What's going on YouTube? I welcome you to Freaks Media. Kindly subscribe if you knew. And for the returning subscribers, I really appreciate you all. I just want to remind you that we are on a lot of 6k subscribers and I just can't do it without you. So make sure you subscribe and watch this video. Sound news coming in, Toto Katungo, who was born on 7th July 1943, has passed away at the age of 80. His death cause has not yet been disclosed but will be letting you know in the nearby time. Toto has been an Italian pop singer, songwriter and musician. He was best known for his worldwide hit song, El Italiano, released in 1983. He won the Eurovision Song Contest in 1990, which was held in Croatia. Toto was a kind and humble man who usually pass all his feelings through his music. It's so sad we are going to miss him. I will send our condolences to Italy's music industry, all Toto's fans, his family and friends. May his soul rest in peace and may God grant him a peaceful rest and may God comfort all his family and friends. And don't forget to subscribe to Freaks Media for your daily international news. Bye bye!